Ho deciso di accogliere l'invito che mi è stato fatto dalla lista civica Terricciola Sicura per l'amore che ho da sempre verso questo comune dove sono stato anche consigliere per dieci anni in passato fino al 2014 e dove sono anche cresciuto perché io sono, l'ho sempre detto, sono di origini soianesi e cappannolesi e sono cresciuto qui con i miei nonni a Soiana, qui vicino e proprio per questo abbiamo deciso di partire proprio da Soiana dove ho le mie radici, dove ho la mia terra, dove ho la mia storia. Qui francamente basta girarsi intorno, abbiamo un panorama eccezionale che nulla ha a che invidiare con le zone del Chianti, con le zone della Val d'Orcia, con altre zone molto più conosciute della nostra Amata Toscana. Peccato che però non sono valorizzate a sufficienza e proprio per questo noi ci candidiamo come amministrazione che vuole riscoprire, far riscoprire il nostro territorio e l'eccellenza del nostro territorio. Qui abbiamo dei vini eccezionali, abbiamo dei prodotti agricoli sublimi che però spesso non hanno una conoscenza adeguata e non vengono conosciuti adeguatamente sul territorio nazionale e internazionale. Quello che viene fatto viene lasciato naturalmente alla iniziativa esclusiva di questi volenterosi che hanno voluto investire sul nostro territorio e il Comune non è mai stato negli ultimi anni di supporto a questi grandi investimenti che sono stati fatti. Noi vogliamo essere invece di supporto come amministrazione proprio a loro. Noi non vogliamo insegnare all'agricoltore come si fa l'agricoltore o al commerciante come si fa il commerciante ma vogliamo però essere quella struttura comunale, l'ente comunale di supporto e che è loro vicino in qualsiasi momento. Sì, ho dato il mio piccolo contributo quando ero consigliere comunale anche se all'opposizione per far destinare fondi al campanile di Soiana. A quel tempo naturalmente l'amministrazione comunale destinava una parte degli oneri per attività sociali e culturali oggi purtroppo anche questa possibilità è venuta meno perché il sindaco attuale ha tolto questa possibilità noi la ripristineremo perché è importante anche quella parte di oneri per poter far ritornare bella e grande della nostra amata territoria, ciola con tutti i suoi paesi, tutti i suoi borghi. Qui c'è delle eccellenze, veramente mi viene in mente Bocca Nera, mi viene in mente Stibiolo, mi viene in mente Casanova. Cioè sono dei posti che vanno sempre di più aiutati a entrare nel tessuto internazionale del turismo e dell'agricoltura. Noi vogliamo fare questo. Abbiamo iniziative che noi non vogliamo, non avremo un programma dove farà onico, dove faremo ponti o faremo chissà cosa. Cercheremo però di dare, di essere di aiuto e di avere idee. E di avere idee e di mettere a disposizione della collettività e di chi vuole fare impresa qui sul nostro territorio le nostre conoscenze e i nostri legami sia sul tessuto nazionale che internazionale. Già il 6 verrà una grossa personalità qui in visita a Terricciola, un grosso importatore di vino che verrà a conoscere i nostri territori. Questa è una delle prime tappe che facciamo per far vedere che con poco, ma con la conoscenza e le idee si può veramente rilanciare un territorio che ha bisogno. Noi vogliamo far diventare Terricciola la Montalcino di Pisa. Vogliamo che si conosca il vino del nostro territorio perché è il vino di Terricciola, come era inizio del secolo. Vogliamo riscoprire la tradizione del vino. Qui vicino c'era la fattoria del Salvadori, con le proprie cantine, col Tokai, che era un vino eccellente. Oggi non esiste più. Riscopriamo questa eccellenza del nostro territorio. Riscopriamo la storia della famiglia Salvadori, dei loro prodotti, come di altre famiglie che si sono impegnate nei secoli scorsi per far grande il nostro territorio. Noi ci candidiamo per questo, con una squadra di giovani, con una squadra di commercianti, con una squadra di imprenditori, con una squadra di pensionati, con una squadra di studenti, tutti mossi dalla voglia di aiutare, mettere a disposizione una parte del loro tempo per la collettività. Noi ci candidiamo proprio per questo. Ognuno di noi mette da parte del proprio tempo, tempo della famiglia, tempo del lavoro, perché si è reso conto che dobbiamo dare qualcosa a questo comune per farlo crescere nuovamente. E noi ci candidiamo proprio per questo, per essere quelli che vogliono far tornare grande Terricciola con tutti i suoi paesi e tutti i suoi borghi. Allora, la squadra è pressoché formata, manca soltanto le ultime definizioni, e sarà una squadra che va oltre gli steccati del centro-destra. Infatti è una lista civica, quella che mi sostiene, una lista civica che va oltre i normali steccati. Ci sono persone di ogni provenienza che si candidano proprio per questo. Via la politica e l'ideologia, mettiamo qui in campo esclusivamente il bene comune, il bene per il nostro territorio, l'amore che abbiamo per il nostro territorio. Sono tutte persone che hanno le proprie radici qui e vogliano proprio per questo dare il proprio contributo al territorio che le ha fatte crescere, che le ha fatte nascere e da cui provengano. Perché per noi è proprio importante le radici e la tradizione e il nostro legame che è indissolubile, il legame di sangue, quella che è più forte di tutto.